Bella esperienza, molto positiva, ho scoperto praticamente il ritmo, come giocare, come sentire la palla Maestro è molto bravo e mi ha dato un sacco di input positivi Spero di ripetere e di ritrovarmi qui con lui e tutti quanti voi che siete stati molto carini e molto cortesi Quindi viva Tennis Winner Game!